Quelle parole del grande apostolo e evangelizzatore San Paolo. Nessuno di noi vive per sé stesso e nessuno di noi muore per sé stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è risolto e è ritornato alla vita per essere il Signore dei morti e dei diritti. Amo. 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 Grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.